Primo Reggiani e papà, il primo settembre è nato il primo figlio dell'attore 37enne. Che annuncia insieme alla compagna, Federica Pacchiarotti, l'arrivo della cicogna sul sociale rivela pure come si chiama il bambino, un bel maschietto. Primo settembre 2021 è nato l'amore della nostra vita. Benvenuto Romeo, scrive la Pacchiarotti sul suo profilo Instagram. Postando una bella foto, scattata da Cristiano Pacchiarotti, che la immortala insieme a Primo Reggiani. A cui è legata dal 2019. L'artista condivide la stessa immagine e le stesse parole della bella more. Ti amo, fa sapere ancora la neomamma, che nelle storie mostra anche il braccialetto al polso del bimbo appena venuto al mondo. Il braccialetto più bello del mondo, aggiunge. Primo e Federica hanno vissuto la dolce attesa privilegiando la privacy. Il primo scatto col pancione di Federica è arrivato al sesto mese di gravidanza. Poi se ne sono aggiunti altri. Il legame che unisce due in forte, al punto da volere fortemente una famiglia insieme. La Pacchiarotti non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora come estetista. Bella e accattivante, ha saputo conquistare il cuore di Primo, in passato legato prima a Martina Stella e poi a Costanza Caracciolo.